Il governo aveva tagliato il regime forfettario dei piccoli agricoltori, che ricordiamo sono agricoltori che non sono iscritti a nulla, ma hanno magari il piccolo terreno che coltivano. Il governo li stava subissando di norme burocratiche e anche qua noi abbiamo detto no, facendo un emendamento e chiedendo di ritornare al regime agevolato che avevano prima. I nostri piccoli agricoltori se lo meritano e noi abbiamo dato battaglia anche su questo.